Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Oggi siamo con Ilaria Tataranni, che è una brava cantante e ci aiuterà in questo spazio riservato a come imparare delle canzoni semplici da suonare al pianoforte. Qual è il brano che impariamo oggi? What's up? Dei far una blondis. Yeah! Canta! Bene ragazzi, questa canzone si compone soltanto di tre accordi. Il primo accordo è il Sol maggiore, quindi se dove ci sono i due tasti neri a sinistra c'è il Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, quindi Sol, Si, Re formano il Sol maggiore. Il secondo accordo sarà il La minore, quindi accanto c'è il La, La, Do, Mi, Forma il La minore e poi Do, Mi, Sol formerà il Do maggiore. Questi sono i tre accordi e la strofa fa così. Come vedete ci sono quattro battute per ogni accordo e la successione è Sol, La, Do e di nuovo Sol. Poi riprende ancora dal Sol e anche il ritornello farà gli stessi accordi. And I say Hey, 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 hey That's a day What's going on? Bene ragazzi, come abbiamo visto anche questo era un brano molto semplice da suonare al pianoforte io voglio ringraziare Ilaria Tatarani Grazie a te Per averci aiutato e noi, io vi lascio in descrizione come sempre il link su dove trovare il testo con gli accordi, altri link su come studiare gli accordi per il pianoforte e oggi che cos'è? Capodanno! Auguri ragazzi! Vi auguriamo un buon 2019 che sia grandioso per tutti. Ciao!